Quando si valuta l'efficacia di un percorso di innovazione didattica, gli indicatori quantitativi come partecipazione, output delle attività, esito finale e questionario di valutazione della didattica proposto dall'istituzione sono fondamentali. Il processo di innovazione didattica è però in continua evoluzione e va a integrare diverse dimensioni. È necessario quindi dare profondità ai dati quantitativi raccolti attraverso un'analisi di tipo anche qualitativo. Per poter leggere in dettaglio le dinamiche che si attivano poi durante il corso è importante anche che il piano di monitoraggio venga attivato all'inizio del corso stesso e lo accompagni poi durante tutta la sua durata. Ma quali sono gli indicatori di tipo qualitativo che ci aiutano a capire che cosa sta funzionando oppure ha funzionato all'interno del nostro corso? La prima cosa da fare è osservare l'aula per monitorare lo svolgimento delle attività e la risposta da parte degli studenti. La partecipazione è forzata o gli studenti sono concentrati? Sono chiare le varie fasi delle attività? Ci sono tempi morti che potrebbero essere eliminati? Soprattutto nelle classi piccole è utile poi prevedere dei momenti informali di scambio con gli studenti, magari al termine della lezione, per raccogliere feedback che permettano di individuare eventuali difficoltà oppure dubbi. Per dare voce poi a perplessità che altrimenti resterebbero inespresse è fondamentale prevedere anche dei momenti formali di raccolta dei feedback attraverso ad esempio la somministrazione di uno o più questionari intermedi anonimi che richiedono agli studenti uno sforzo minimo per la compilazione ma che sono utilissimi per individuare dei piccoli correttivi da mettere in campo nella parte successiva del corso. Abbiamo visto che durante il corso, oltre all'osservazione continua dell'aula, è consigliabile prevedere dei momenti informali di scambio con gli studenti e proporre uno o più questionari intermedi. Proviamo a capire però su quali aspetti può valere la pena andare a richiedere un feedback in itinere da parte degli studenti. Per prima cosa l'impegno richiesto dalla sperimentazione didattica e le tempistiche in generale. Altro aspetto interessante da indagare è la percezione dell'utilità da parte degli studenti delle singole attività ed eventuali suggerimenti che gli studenti vogliono dare. O ancora la qualità del feedback del docente rispetto alle singole attività. E in ultimo eventuali dubbi sulle modalità di valutazione. Ma attenzione perché è importante durante il corso andare a individuare bene su quali aspetti chiedere un esplicito parere da parte degli studenti. A vale infatti di una richiesta di feedback è opportuno prendere in carico ciò che è emerso, illustrando le nuove modalità che si sono implementate oppure ribadendo le decisioni prese all'inizio del percorso e cogliendo l'opportunità di rifare il patto d'aula e rifocalizzare il senso della sperimentazione. E quando il percorso è finito? La valutazione finale di una sperimentazione didattica ha almeno cinque scopi diversi. Per prima cosa è capire che cosa ha funzionato e che cosa meno in relazione alle diverse dimensioni organizzativa, didattica, comunicativa e tecnologica. Altra cosa molto importante è avere indicazioni utili per formalizzare il modello e affinarlo in caso di riuso l'anno successivo. Un altro scopo è valutare l'impegno richiesto al docente o al team di docenti e per focalizzare anche che cosa è possibile riproporre o si vuole riproporre e anche gli aspetti su cui ci si è sentiti più a proprio agio durante la sperimentazione. In modo analogo un'altra cosa da valutare è l'impegno richiesto agli studenti per capire se proporre o meno alcune attività e se rimodulare l'intero percorso. In ultimo, un altro aspetto interessante proprio legato agli studenti è il raggiungimento da parte loro di competenze trasversali. Per raggiungere questi scopi un primo strumento utile è un questionario di fine corso che, rispetto al questionario di valutazione della didattica proposto dall'istituzione, verta esplicitamente sulla didattica innovativa e sulle sue molteplici dimensioni. Un primo aspetto da indagare è la percezione da parte degli studenti dell'efficacia delle singole attività e dell'intero percorso proposto, ovviamente in relazione alle attività che il docente designer ha progettato all'inizio del corso e ai loro obiettivi specifici. Un secondo elemento sono gli aspetti più sfidanti che gli studenti si sono trovati ad affrontare durante il corso, che siano di tipo cognitivo oppure di tipo organizzativo. Questo consente, in una seconda edizione del corso, di mettere in campo dei correttivi e delle azioni di sostegno che consentano agli studenti di ridurre il tempo richiesto da questi elementi sfidanti e di concentrarsi sugli aspetti importanti. Un altro fronte interessante da indagare è la percezione dell'utilità del feedback da parte del docente e la percezione dell'utilità delle interazioni fra studenti che siano informali o poco strutturate oppure che siano inserite in lavori di gruppo più complessi e definiti. Un ultimo aspetto che è interessante indagare è lo sviluppo di competenze trasversali come la capacità di problem solving o di comunicare la propria idea al proprio progetto, di presentare in pubblico, di organizzare autonomamente il proprio lavoro, di orientarsi fra fonti diverse, di lavorare in gruppo, ecc. Per tutti o quasi gli elementi che si decide di indagare, sarebbe interessante dare agli studenti la possibilità di fornire dettagli attraverso risposte aperte, nel caso avessero voglia di specificare meglio alcuni aspetti. A valle del questionario finale è consigliabile organizzare anche dei focus group con gli studenti per approfondire eventuali aspetti critici emersi dal questionario o dai momenti di rilevazione durante il corso. Il focus group consente anche di indagare dimensioni che non è possibile far emergere in altro modo come ad esempio la percezione dell'integrazione delle attività di didattica innovativa all'interno del corso, la modifica di abitudini di studio o di approccio al corso ed eventuali ricadute positive che non erano state prese in considerazione a priori. Ove possibile sarebbe opportuno far condurre il focus group a qualcuno di esterno alla dinamica d'aula, così da garantire agli studenti la libertà di espressione. Nel caso non ci fosse questa possibilità può essere il docente a condurlo, ovviamente impostando una comunicazione aperta e trasparente e garantendo la libertà di espressione da parte degli studenti. Infine, un ultimo aspetto fondamentale da indagare è la qualità percepita dell'esperienza di insegnamento e apprendimento da parte del docente e anche l'individuazione delle attività, dei ruoli e delle dinamiche nei quali si è sentito più a suo agio. In quest'ottica può essere utile dedicare del tempo ad una riflessione individuale e conclusiva o a una riunione tra i docenti coinvolti nel corso per rileggere in modo organico tutti gli elementi emersi di tipo quantitativo e qualitativo, integrandoli nella propria sperimentazione. In questo modo diventa più semplice individuare delle direzioni di sostenibilità, sviluppare una maggiore consapevolezza delle dinamiche che si sono attivate e formalizzare il modello proposto. Per concludere, come si fa a capire se un corso funziona? Bisogna andare a indagare la qualità dell'esperienza didattica sia dal punto di vista dello studente che del docente, ovviamente in relazione ai risultati di apprendimento attesi, individuati dal docente all'inizio del percorso e collegati alle attività innovative. Il piano di monitoraggio deve partire all'avvio del corso e proseguire lungo tutta la durata e oltre e deve prevedere un'analisi quantitativa approfondita da un'analisi qualitativa. Grazie per la visione!